Ciao a tutti amici di YouTube, sono Informatica Tutorial. Oggi andiamo a vedere come disabilitare l'ibernazione mantenendo l'avvio rapido di Windows 10. Inizio col dire che su Windows 8 e Windows 10 è attiva una funzionalità chiamata Fast Startup, cioè avvio rapido, che permette un boot del sistema operativo molto veloce. Questo è possibile grazie all'uso di uno spegnimento ibrido che salva sul disco il kernel del sistema operativo e i driver per poi caricarli nella RAM subito dopo l'accensione del PC. Vediamo come disabilitare appunto questa ibernazione. Allora, il primo passo da fare è aprire Cortana e cercate CMD. Quando comparirà prompt dei comandi tra i risultati di ricerca fate clic con il tasto destro su di esso e cliccate Segui come amministratore. Nella finestra che si aprirà digitate PowerCFG slash H slash type reduce e date invio. Questo ridurrà la dimensione dei file di ibernazione, salvando un po' di spazio su disco. Se decidete di tornare alla configurazione di default, al posto di reduce sostituite con full e poi date comando. Ibernazione completa salva lo stato di tutte le app aperte, file, driver eccetera. E li ripristina così come erano. Questo processo risulta comunque più veloce del boot a freddo del sistema operativo. Tuttavia più del 40% della memoria disponibile sarà occupata. Sfruttando l'ibernazione ridotta invece soltanto il 20% della RAM sarà occupata, dunque molto poco. In questa modalità non sarà possibile ibernare il PC dal menu start, dal menu win più x. Vi premetto una cosa. Se l'aveste già abilitato in passato, il comando PowerCFG slash H slash type reduce potrebbe darvi diversi errori. Per evitarlo dovete decomprimere il file usando il comando PowerCFG hibernate size 0 e successivamente usare il comando per abilitare l'ibernazione ridotta. Sapevate come abilitare e disabilitare l'ibernazione ridotta? Fatemelo sapere nei commenti. Fatemelo sapere nei commenti.